Bene, iniziamo a conoscere il programma. Ciao, bentornato sul canale YouTube di Associazione Culturale Maggiolina. Eccoci pronti con il secondo video dedicato alla serie di Access e iniziamo a conoscere il programma. Cosa abbiamo a disposizione per gestire un database? Partiamo dal risultato. Io ho preparato, aperto in questa finestra, dei file di Access. Biblioteca, Biblioteca Distribuito, Biblioteca 2 sono tutti file di database diversi di Access. Quindi io ho fatto delle prove per fare degli esempi, per conoscere anch'io il programma e ho salvato queste prove e sono diventate dei file. Ognuno di questi file rappresenta un database. Quindi Biblioteca 2 è un gestionale biblioteca, è un database completo di gestione biblioteca. Il tutto in un unico file. Quindi Access racchiude in un unico file diversi elementi che ci permettono di gestire tutto quanto il database. Mi interessa per adesso farti vedere l'estensione tipica di un file di Access in modo che tu possa riconoscerlo. Lo riconosci ovviamente anche dall'icona tipica di Access che è questa. E se faccio tasto destro, proprietà, vedo che il mio file si chiama Biblioteca 2 e l'estensione del file, perché dopo ogni file generalmente c'è un punto e una estensione, cioè dei caratteri che lo identificano, è accdb. Questo è un file di Access, un database tipico. Vedremo che ci sono altre estensioni, altri formati legati al mondo di Access, ma approfondiremo molto più avanti questo argomento. Per adesso sappiamo che noi creiamo un database, gli possiamo dare un nome e viene salvato come estensione accdb. Perfetto. A questo punto non ci resta che aprire Access per la prima volta. Se non lo hai mai aperto, lo trovi nel tuo menu di avvio e alla A come Access. Nel mio caso è Access 2016 e quindi vedremo i comandi di questa versione di Access. Anche se noi non vogliamo focalizzarci sui singoli comandi e sulla posizione degli stessi. Noi vogliamo imparare ad utilizzare il programma in generale, qualsiasi versione di questo programma sia, quindi anche per quelle future o anche per quelle passate. Quindi cerchiamo di imparare a livello di concetto il funzionamento del programma e poi ci adegueremo alla disposizione dei comandi che di volta in volta magari verranno spostati. Ma per la maggior parte penso che utilizzeremo questa versione. Quindi vado ad aprire il mio programma. Ed eccoci arrivati alla schermata iniziale del programma. Qui sulla sinistra ho i file che ho utilizzato di recente per poterli aprire più velocemente e qui ho degli strumenti per creare un nuovo file e un nuovo database. E di questi ci occuperemo in seguito. Ora proviamo ad aprire uno di quei file biblioteca, nello specifico biblioteca 2, perché vogliamo vedere da cosa è composto un database e di conseguenza quali sono gli strumenti che io ho a disposizione per gestirlo. Potrei aprirlo semplicemente cliccando su biblioteca 2, dato che questo file è stato aperto recentemente. Oggi, mi dice, infatti, l'ho aperto pochi minuti fa. Ma se io lo avessi aperto nel passato, la strada classica per raggiungerlo sarebbe questa. Apri file, vado in sfoglia e vado a cercare all'interno del mio computer questo file. Il mio computer si presenta già in documenti. Io so dove l'ho posizionato. In questo caso ce l'ho dentro esercizi nuovi. Access. Ed eccomi arrivato in quella finestra che ti ho mostrato poco fa. Vado ad aprire Biblioteca 2. Ed eccomi arrivato. Questo file è programmato per aprirsi in questo modo, mostrandomi un menu principale e vari pulsanti che mi permettono di gestire questa applicazione. Vari pulsanti. In questo momento ce n'è uno solo, che è il pulsante Libri. Ma quello che mi interessa mostrarti sono questi. Nel mio database, quindi nella mia gestione del database, ho creato diversi oggetti. E sono tutti questi. Tutti questi oggetti sono racchiusi nell'unico file Biblioteca 2 che abbiamo aperto qualche istante fa. E questi sono gli oggetti tipici di un database. Quindi gli oggetti tipici che noi utilizziamo, grazie ad Access, per gestire il nostro database. Andiamo quindi a vederli. Innanzitutto ci sono le tabelle. Le tabelle sono i contenitori dei dati, i luoghi dove io vado a scrivere le informazioni, per cui sono per noi l'oggetto principale e più importante del nostro database. Per capirci, in questo gestionale biblioteca, io ho creato varie tabelle. Una tabella che contiene il nome di tutti gli autori, una tabella che contiene il nome di tutte le case editrici, il nome e varie caratteristiche. Il nome, l'indirizzo, il contatto, i libri, editi, eccetera. E una tabella con i libri, anch'essa, che contiene tutte le caratteristiche dei nostri libri. Ma possiamo andare ad aprirla, così capiamo meglio. Quindi apro la tabella Libri, cliccandoci sopra due volte, e questa tabella contiene delle informazioni, contiene dei campi. Se hai visto il video precedente, sai di cosa parlo. Eventualmente ti rimando a vedere quel video, perché anche se è il primo e iniziale, è molto importante. Quindi questa è la nostra tabella. Le colonne sono i singoli campi di una tabella. C'è il campo identificativo, che serve a sapere esattamente di quale libro stiamo parlando, il campo titolo, il campo autore, il campo casa editrice, il campo anno di pubblicazione, eccetera, eccetera. E approfondiremo meglio il discorso tabelle in uno dei prossimi video, dato che è il nostro oggetto principale. Ma quello che ci interessa adesso è sapere che le tabelle sono il contenitore effettivo delle nostre informazioni. E le informazioni sono l'oggetto della nostra gestione. Ciò che noi dobbiamo organizzare e gestire. Bene, poi abbiamo le query. Le query sono delle richieste fatte al nostro database, delle ricerche fatte all'interno del nostro database. Quindi io voglio estrapolare dei dati. Dato che ho varie tabelle contenenti dati diversi, ma correlati tra loro, mi piacerebbe vedere delle informazioni pescate, un po' da una, un po' dall'altra, perché mi serve vederle insieme. Grazie alle query noi possiamo ottenere questo risultato. Quindi vado ad aprire, ad esempio, la query combinata, cliccandoci sopra due volte. Ti faccio notare che qui ci sono delle schede. Ogni volta che io apro qualcosa, mi si apre una finestra che va a sovrapporsi alle altre. Ma io, grazie alle schede, posso passare alla tabella libri o posso passare alla maschera menu, vedremo in seguito cosa significa maschera, e ora torno alla query combinata. Ogni iconcina mi aiuta a capire di cosa si tratta. Questa è l'iconcina della tabella, questa è l'iconcina della maschera, e questa è quella della query, nel nostro caso. Ecco, questa è la nostra query. La visione è tabellare, cioè sembra una tabella, però queste informazioni vengono pescate da tabelle diverse e raggruppate in un'unica visualizzazione. Quindi sfrutto il fatto che il mio è un database relazionale, tabelle diverse con dati correlazionati tra loro, e posso vedere informazioni in maniera organizzata. Altro oggetto importante del nostro database sono le maschere. In questo caso io ho la maschera autori, libri e la maschera menu. La maschera menu la vediamo già qui, e in definitiva le maschere sono delle schermate con dei pulsanti che mi permettono di compiere delle azioni e ovviamente gestire le mie informazioni. Questa è la maschera del menu e vorrà essere una schermata con tutti i pulsanti che mi permettono di aprire la tabella dei libri, aprire la tabella degli autori, aprire una query, e chiuderne un'altra, eccetera, eccetera. Ora c'è solo il pulsante libri perché ancora il database non è completato. Proviamo ad aprire la maschera dei libri per capire qualcosa di più. Apro la maschera dei libri, nuovamente si apre una scheda in questa posizione e questa è la maschera dei libri. Questa mi mostra le informazioni scritte all'interno del database in maniera diversa, un po' come ho scelto io. Questa visualizzazione, questa creazione è una mia scelta. Ora non ci interessa capire perché ho scelto proprio questa. Ci interessa capire che questa schermata serve proprio per gestire le informazioni, per scorrerle con i pulsanti di scorrimento che posso avere sotto, ma anche per aggiungere nuovi record, quindi nuove registrazioni, nuovi libri, per cancellarli, per modificarli, eccetera. Quindi è una schermata che ci permette di agire comodamente direttamente all'interno di una tabella, per cui con un gestionale noi non andiamo come in Excel a scrivere direttamente in una tabella, ma abbiamo una maschera apposta con i libri, con il bottoncino aggiungi, aggiungeremo un nuovo libro e andremo a compilare i singoli campi che ci sono stati predisposti in maniera comoda ed elegante. Dopodiché, altro oggetto che ci interessa sono i report. I report sono delle stampe. Se una query mi visualizza delle informazioni pescate da una tabella, il record mi stampa informazioni organizzate pescate da una o più tabella. Un po' come le query, solo che siamo destinati alla stampa in questo caso. Provo ad aprire un report per vedere cosa succede. Di nuovo appare la scheda corrispondente al report con l'iconcina dedicata e questo è l'aspetto che avrà il mio foglio stampato se io dovessi stamparlo su carta. In questo caso vediamo un riassunto dei libri presenti nel nostro database che non sono poi tanti raggruppati per autore. Questi libri sono stati scritti dall'autore Castelletti. Ovviamente non è vero, ma era così per fare una prova. E questi altri libri sono stati scritti da altri autori. Alla fine mi viene scritta sulla stampa la data e il computer la prende automaticamente dall'orologio di sistema. Bene. Per ultimo abbiamo le macro. Le macro sono i comandi. Sono quelle cose che fanno funzionare i bottoni. Per cui io premo su un bottone. Questo bottone esegue una macro, una serie di istruzioni che io ho precedentemente programmato. Programmato in maniera semplice perché Access è un programma gestionale che ti permette di realizzare il tuo database senza avere competenze tecniche da programmatore, ma semplicemente con delle nozioni che ci auguriamo di acquisire in questi video. Se io clicco due volte su una macro e qui ne ho una sola, in questo caso non si apre, ma esegue una azione. Questa macro, vedo dal nome, dovrebbe aprire la maschera dei libri perché c'è scritto apri libri. Provo, clicco due volte ed eccomi nella maschera dei libri, effettivamente. Questo pulsante che ha una porta con la freccia che indica la porta e mi dice chiudi maschera dovrebbe chiudere la maschera libri e, se mi ricordo bene, aprirmi la maschera menu principale. Provo a premerlo ed ecco che si è chiusa la maschera dei libri e mi trovo nella maschera menu principale. Questa azione, quindi l'azione compiuta da quel pulsante, è sempre una programmazione di una macro. Bene, ogni scheda di queste può essere gestita, può essere intanto chiusa da questa posizione, per cui io mi muovo tra una scheda e l'altra cliccando sulla linguetta della scheda. Ora vado sul report. E se questa scheda non mi serve più, perché in questo momento non la voglio più, la chiudo con la X che trovo in questa posizione. Per cui la X fa sempre riferimento alla scheda che sto utilizzando. È come se fosse una finestra, quindi queste schede in realtà è come se fossero delle finestre rappresentando oggetti diversi. Ma per comodità si può scegliere di visualizzarli sotto forma di schede perché così stanno tutte insieme ed è facile passare da una all'altra. E anche questa visualizzazione può essere cambiata e quindi tornare alle visualizzazioni finestre, ma secondo me è più comoda in schede e per il momento la teniamo così che è anche la visualizzazione standard. Ora chiudo la scheda elenco ed ecco che il mio report si è chiuso e mi rimangono la tabella libri, la query combinata e la maschera menu aperti. Comunque questi oggetti sono sempre qui quindi se io rivolessi l'elenco mi basta cliccarci due volte per averlo nuovamente alla mia attenzione per poterlo utilizzare. Ogni oggetto per cui macro, report, maschere, query e tabelle possono essere creati ovviamente da un apposito menu. Qui in alto abbiamo il menu in stile Microsoft, Microsoft Office come in Word, come in Excel. Quindi cambio la scheda e cambia il menu sottostante per cui sono andato in Crea e qui ottengo tutti i pulsanti che mi servono per creare una tabella, per creare una query, per creare una maschera, per creare un record o per creare una macro e poi anche eventuali altri pulsanti che mi permettono di modificarla e di crearne una in una certa maniera, una in una certa altra, eccetera, tutte cose che vedremo. Poi ovviamente qui ci sono delle altre linguette che mi daranno a disposizione altri comandi ancora che via via andremo a vedere. Noi al momento siamo su Home che è, diciamo, la schermata, la scheda pulsanti principale. Quello che mi interessava mostrarti ancora è che ogni oggetto di questi ha una visualizzazione di struttura, si chiama. Questo è il nostro pulsante visualizza che andremo ad utilizzare spesso. Questo visualizza mi mostra in questa schermata i singoli oggetti che ho aperto. Ora siamo su elenco, quindi in questo caso ho la visualizzazione dell'elenco. Vedo come verrebbe stampato il record elenco 1 esattamente. Ma io potrei andare a cliccare sulla freccina visualizza e cambiare questa visualizzazione. Questa era la visualizzazione del record così come viene stampato. Potrei anche passare a una visualizzazione di struttura che andremo ad utilizzare spesso. Andiamo a vederla per renderci conto. e questa visualizzazione particolare mi permette di gestire ciò che verrà stampato. Cioè di prendere ogni singolo oggetto e eventualmente volendo di spostarlo e quindi fare in modo che venga stampato un po' più a destra, un po' più a sinistra, un po' sopra o un po' sotto oppure cambiargli colore anziché grigio magari lo voglio rosso e da questa schermata di tutte le proprietà del nostro report andare a regolare ogni singolo parametro per scegliere il rosso, per scegliere il grassetto, per scegliere il più grande, per scegliere lo sfondo verde e per scegliere infinite cose. E questo per ogni oggetto del nostro database. Quindi ora stiamo lavorando su un report ma se passo ad una maschera posso andare a lavorare sulle maschere sempre andando in visualizzazione struttura ed ecco che vedo una visualizzazione simile e di nuovo ho tutti i comandi a disposizione eccetera eccetera. Anche per le macro ho questa visualizzazione struttura. In questo caso la macro dato che cliccandola non si apre per passare alla visualizzazione struttura dovrò fare tasto destro sulla macro stessa e passare a visualizzazione struttura. In questo caso si apre la mia macro con la struttura con tutti i comandi che mi permetteranno di modificarla opportunamente. Se ci hai fatto caso ora passo alla maschera menu ci sono altre visualizzazioni oltre alla struttura ad esempio le maschere hanno la visualizzazione maschera la visualizzazione layout e la visualizzazione struttura mentre invece i report hanno la visualizzazione report anteprima di stampa layout e struttura quindi ogni tipo di oggetto ha delle visualizzazioni particolari specifiche di quel tipo di oggetto e un po' alla volta nei prossimi video vedremo i singoli oggetti vedremo come crearli vedremo come modificarli vedremo a cosa servono le varie visualizzazioni e vedremo di mettere tutto quanto insieme in un database funzionale e quindi di fatto impareremo ad utilizzare access. Ti do appuntamento al prossimo video ciao quando guardo un video faccio sempre sapere alla persona che lo ha fatto se mi piace oppure no e se mi piacciono i suoi video mi iscrivo subito al canale e se mi piacciono